Il Festival Suoni d'Acqua, seconda edizione, vede la sinergia tra Chio Giacavarza e Renoale e Santa Maria di Sala, proponendo musiche classiche, jazz e musica etnica. Importante è la collaborazione con il premio Tomorrow's Jazz, concorso organizzato da Veneto Jazz, dedicato ai giovani under 30 per dare risalto ai loro talenti. I giovani jazzisti, come afferma il co-direttore artistico Gabriele Vianelli, sono orientati al jazz contemporaneo e stanno elaborando linguaggi personali ricchi di influenza e contaminazioni mediterranee, nordiche, elettroniche ed etniche. A loro affianchiamo artisti di fama internazionale che si esibiscono da moltissimi anni nei migliori palcoscenici del mondo, come il maestro Boghino e Miomira Vitas. Pietro Perinico, direttore artistico, illustrando l'esibizione in cartellone di musica classica, ne racconta l'importanza come cultura, radici, non volubili a seconda delle mode, ma di importante valore. Suoni d'acqua festival, mette in rete territori, il cui legame è l'acqua e ha come obiettivi dare luce alla cultura dell'acqua attraverso la musica e fare rete. Saranno due le stagioni che verranno presentate, una per l'autunno e una per l'inverno. Gli appuntamenti organizzati da Musica a Chioggia in collaborazione con Ministro della Cultura, Regione Veneto, Rete Eventi, Rete Mondiale Unesco dei Musei dell'Acqua, Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua e Epica dell'Acqua. La corsa è appena conclusa, sì con grande successo, 100 km a piedi nel delta del Pont. Il video della conferenza stampa sarà disponibile sul canale YouTube di Chioggia Splendida Chioggia e sulla pagina Facebook Omonima.